Nonostante ci sia un parcheggio enorme che resta sempre vuoto, gli lasciano le auto davanti casa. Tanto che molto spesso i residenti non riescono a trovare posto quando tornano dal lavoro. Assurdo, ma vero. Di questa vicenda ci eravamo già occupati qualche mese fa, ma da allora nulla. Uno dei residenti ha chiamato ancora una volta a Rete Veneta per vedere se la situazione si sblocca. Siamo a lungo strada delle scuole, laterale di via Monsignor Rodolfi, in centro studi a Bassano. È da otto anni ormai che continuano a parcheggiare là. Mi sono lamentato col comune, con i vigili, con la scuola, ma non è stato più risolto niente. Noi da via non avevamo mai il parcheggio libero. Per assurdo. Allora, voi chiedete una cosa molto semplice al comune. Sì, che mettono, non so, escluso i frontisti o quant'altro, che mettono qualcosa per i residenti della via. Per tutelare voi? Sì, per tutelare noi da via, perché visto che c'è il parcheggio libero in fondo dietro le scuole Belavitis, ma è sempre vuoto. Oppure anche il parcheggio dove c'è dietro la palestra della ragioneria, anche quello è sempre vuoto. E il parcheggio è sempre davanti a casa mia. Abbiamo sentito, basterebbe un cartello di divieto parcheggio escluso frontisti. E a nulla sono serviti i reclami che il nostro telespettatore ha fatto più volte in comune. Ho provato anche a chiamare, andare anche da Sino a Pavan, ma non sono mai stato mai ricevuto. Per cui il problema persiste. E se non prendono provvedimenti persisterà per sempre.